allora giù piccola sfida crea un setup a 200 euro senza pc ovviamente ps bel video iniziamo iniziamo prima tutto col dire che qui sotto in descrizione troverete tutti i link per l'acquisto che saranno effettuabili tramite amazon visto che ho voluto utilizzare soltanto un sito in modo da unificare un po' gli acquisti. Ma partiamo e partiamo col parlamento del primo componente principale e quindi la scrivania. Come scrivania ho deciso di scegliere la Mechablock K9453B, una scrivania abbastanza buona per il prezzo che alla fine va a costare perché parliamo di 32€, è una scrivania totalmente bianca, ha un cassetto o una menzolina per inserire magari dei gadget perché serve alla fine un po' di spazio del genere ed ha una lunghezza di 90 cm, abbastanza piccola ma per iniziare dovrebbe fare al caso nostro. Per quanto riguarda le altre componenti abbiamo come mousepad la OKXXL, uno dei mousepad più acquistati sul web, più acquistati su Amazon e che alla fine è di ottima qualità visto che parliamo comunque di OK, una marca che fa della qualità uno dei sei più grandi marchi. Quindi, ottimo, super consigliato ma passiamo a mouse e tastiera. Come kit ho deciso di scegliere il Devastator 2, un kit mem meccanico per quanto riguarda la tastiera, che significa mem meccanico? Significa che i tasti sono sia a membrana ma gli switch simulano quelli meccanici. Funziona bene, l'ho testata anche, mi è piaciuta e mi è piaciuto anche il mouse anche se secondo me è un po' scomodo perché è un po' piatto, ma questo dipende anche dalle vostre esigenze. Ma comunque per un prezzo di 34€ super consigliato anche perché parliamo comunque di Cooler Master. Ma a questo punto andiamo avanti e parliamo del ledset cuffia microfono. In questo caso ho scelto le Kingtop G2000, un paio di cuffie che funzionano abbastanza bene per il prezzo che costano super consigliate. Hanno dei led che sono molto bello da vedere, il cavo è intrecciato, il joystick, se così possiamo dire, il controller, scusatemi, per gestire volume, accensione, spegnimento, è buono, funziona bene, le ho testate un pochettino, mi sono piaciute, ottimo è anche il microfono, l'audio per fare per esempio delle chiamate su Skype o sul TS sono ottime, mentre per quanto riguarda l'audio delle cuffie è buonino, vi riesce a garantire sì una leggera immersione nel gioco, ma ovviamente non aspettatevi chissà che, visto che comunque parliamo di un headset di fascia bassa. A questo punto però parliamo di un altro dei componenti principali e quindi il monitor. In questo caso ho scelto un Philips, non ricorderò mai il nome, 193V5LSB2-10. Certo che i produttori per quanto riguarda la creazione dei nomi dei monitor hanno una fantasia eccezionale, ma comunque. Il monitor è da 19 pollici e dalle recensioni che ho potuto leggere si comporta bene per il prezzo che costa 67€, è ottimo e fa proprio al caso nostro per quanto riguarda questa creazione di questa postazione. Finiamo a questo punto però con la sedia e come sedia sono andato sulla WS Design, una sedia abbastanza piccola, molto easy anche per quanto riguarda l'aspetto esteriore. Abbiamo una colorazione blu, ma è comunque possibile trovarla anche in altre colorazioni come rossa, nera e bianca se non mi sbaglio. Comunque vi lascerò qui sotto in descrizione tutti i link e per il prezzo che costa fa proprio al caso nostro per quanto riguarda questa postazione. Quindi ragazzi a questo punto fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se volete altri video del genere, ma per farlo fatemi tante domande, tante sfide, io cercherò di bilanciare un po' i video e magari rispondere ai vostri commenti tramite dei video in modo di farvi partecipare un po' più attivamente al canale. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un pollice in su se così lo è stato, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, io vi lascio ai prossimi video, un bacio e un abbraccio, da oggi è tutto, ciao a tutti!